Allora eccolo qui nel retro del box vicino al frigo della benzina non ti senti più come a piece of shit come hai detto lì nel paddock show, è un'altra musica, è un altro marco è una gara perfetta praticamente, ma è il feeling quello che conta di più chiaro, è stata una gara incredibile, credo che forse nei miei sogni ho sognato di vincere così poi qui a Brunone la pista di Max, è una gara spettacolare, è molto difficile, dura, fatica e adesso speriamo, ho sognato anche di fare doppietta ma in gara 2 sarà molto difficile sarà Carlos, il mattivo, sicuramente anche Max vorrà riprendersi quello che ha lasciato e noi ci proveremo, però come ho detto il feeling con la moto è stato grandioso e ho ritrovato la gioia di guidare ma adesso tu ovviamente non cambi niente per gara 2, cambieranno qualcosa loro sono loro che devono colmare il gap però questo è il risultato migliore possibile per il campionato, si riapre anche quello in qualche modo ma come ho già detto io non ho niente da perdere in campionato quindi sarebbe stupido pensarci io devo fare del mio meglio e provare a vincere adesso vediamo, se le condizioni ci saranno ci proverò altrimenti porterò a casa quel che si vuole questo è il marco più appagato che ho visto negli ultimi due mesi, può essere? può essere, speriamo che lo sia ancora di più dopo gara 2 grazie Marco ciao, grazie